Una bella partita, chiude, bisogna dirlo, un bel turno di Bundesliga, il Lipsia passa a Colonia e di gol, ne fa 4 ragazzi è stata come vi ho detto una bella, interessante, chiamatela un po' come volete, partita che ci ha fatto comunque respirare ancora una volta aria di calcio il Lipsia non è sceso bene in campo, bisogna dirlo, ha avuto quell'occasione all'inizio con Werner però è servito il gol dopo qualche minuto di Cordoba per svegliare un po' tutto il Lipsia e per poi fargli fare la partita che effettivamente hanno fatto perché l'approccio alla partita è stato sbagliato è stato assolutamente sbagliato, è stato molto disattento, comunque non sono stati molto concentrati almeno nei primissimi minuti di gara ha segnato Cordoba che ha fatto un gol diciamo discreto anche se secondo me le responsabilità di Gulac ci sono perché ha fatto un discreto intervento, un buon intervento in occasione dell'inizio di quella azione in cui ha deviato il pallone sul palo, però poi il tiro di Cordoba secondo me lo doveva trattenere e non ci è riuscito compiendo, non voglio dire una papera, però sicuramente un intervento non pulito e un intervento che non ci si aspetterebbe da un portiere che comunque è da anni titolare fisto all'Ipsia e diciamo che non è che abbia mai fatto interventi imbarazzanti la pagnotta come si suol dire se l'è sempre portata a casa la risposta dell'Ipsia è affidata alla testa di Schick che segna di testa da noi non ha mai segnato, avrà fatto due gol a essere generosi in una settimana fa due gol all'Ipsia quello scorso non troverete a Berlino e oggi lo fa appunto contro il Colonia in casa del Colonia e poi qualche minuto dopo il gol di Schick segna anche un culo ex Paris Saint Germain che con uno scavetto delizioso beffa Horn il Ipsia nel secondo tempo dilaga e fa addirittura il terzo gol rinvio lungo di Culacci, difesa del Colonia totalmente assente erano tutti in avanti in occasione del calcio d'angolo Berner che è velocissimo va verso la porta apre il suo destro, la mette sul secondo palo ed è 3-1 non è morto però il Colonia, bisogna dirlo perché c'è l'ottima, la fantastica rete di Modeste che fa un grandissimo gol di pregevole fattura come direbbe qualcun altro e fa un bel gol ragazzi, si libera molto bene sulla tre quarti campo e poi la mette a giro sul secondo palo bellissimo gol a mezza altezza qui Gulacci non ha secondo me alcuna responsabilità e c'è il gol che poi si gira di fatto la partita che è quello di Dani Olmo arrivato a gennaio dalla Dinamo Zagabria che fa un bel gol, calcio d'angolo pallone che viene messo fuori, mi sembra da Modeste si raggiusta un attimo e poi calcia ed è il gol del definitivo 4-2 bella partita che chiude un bel turno di Bundesliga il video finisce qua, vi ringrazio di averlo visto vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale ciao a tutti